Io sono Sam, grazie mille a tutti di essere qua dopo ci sono i fratti di Frings, lo sapete vorrei fare un applauso anche ai gruppi che ho fatto prima Retarded Rebels e Nuclears tutto qua, va bene ragazzi, più di questo niente, io voglio sempre dedicare i concerti alla gente a cui tenevo e che non c'è più anzitutto vorrei dedicare questo concerto anche se è breve visto comunque siamo qua, un po' di gente vorrei dedicarlo a Lallo, vorrei dedicarlo a Gorlo a Max Funk e un amico Ude, non so quanti lo conoscono molto bene, detto questo penso che ho finito per i maroni anzi no, dopo che ho finito di suonare ho finito di roncarmi i maroni c'è una bella ballad 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 che non c'è una bella ballad Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione